Uno dei modi migliori per poter valutare un locale è andarlo a vedere nel momento in cui è operativo. E così ho deciso che questa sera ti porto con me a vedere quello che è un live club, un locale dove si fa una musica rock un po' alternativa, unico nel suo genere e soprattutto in questa zona. Ma guarda, ho deciso che ti porto a vederlo così sarai tu stesso a valutarlo e a capire se è il locale giusto per te. Grazie per la visione!